ho intenzione di cominciare una nuova preparazione sì ho intenzione di specializzarmi nella corsa e nella palestra nell'essere un atleta ibrido è chiuso ragazzi secondo me potresti provare a circa 506 km tendenzialmente intorno alle 35 inizia per me un nuovo importantissimo capitolo 5 mesi per arrivare qua non esiste di non dare il 200% un passo alla volta atleti buongiorno benvenuti a tutti in questo video siamo alle 8 del mattino di venerdì mancano 48 ore alla partenza della Martona ci troviamo in aeroporto siamo per partire per Amsterdam non sono solo perché in questo viaggio sarò insieme a Federico un mio grandissimo amico e Valeria che sta tenendo la videocamera che mi accompagneranno appunto in questa avventura carico molto molto carico andiamo e non che stiamo facendo. Che bello rimane qui in cielo tenso, eh? Che bel colore! Siamo atterrati ragazzi, è stato davvero il viaggio della speranza, siamo atterrati con un'ora e tre quarti di retardo rispetto al previsto. Appena usciti, uno cielo grigio plumbeo e due vento fortissimo. Da qui le prime impressioni non sono ottime, devo dire la verità, cerchiamo un po' se in cui mangiare e poi possiamo ufficialmente dare via a questa esperienza olandese. Dai! Non c'è vento ragazzi, non c'è, non sono gli alberi che vengono giù. Porca Eva! Ragazzi, siamo arrivati al punto in cui domani ci sarà la partenza della maratona. Mamma mia! Come si è andato in corso? Grazie! 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 Mi sento già, mi sento già. Un dizio di meteo? Terribile. Come disse un vecchio saggio. Cosa disse? Hai voluto la bici senza sellino. Pedala! Adesso pedala. Dobbiamo prendere il biglietto, va che se penso a quanto vento c'è, domani, no, dopo domani non corro più. Allora ragazzi, abbiamo preso questi due gel, il ragionamento che abbiamo fatto è molto semplice. Abbiamo semplicemente guardato, in base a quelli che ho, che sono i Prozis, quanti carboidrati su 100 grammi hanno. I miei di Prozis hanno più o meno gli stessi carbo di questi, loro avevano due tipologie, una con più carbo, una con meno, che abbiamo preso quelli più simili. Errore, lo so, benissimo. Purtroppo non sono riuscito a ordinarli in tempo, sostanzialmente, per cui ripieghiamo su questi. Ma andrà alla grande. Tra l'altro questi sono da 60 grammi, per cui di fatto già con solo loro due sarei a posto. Poi vedremo in gara come strutturarci. Dai, contento dell'acquisto, comunque. Dai, atleti! Ci conquistiamo questa città! Mezzanotte passata di venerdì, si chiude quindi questo primo giorno all'Amsterdam, questo penultimo giorno prima della maratona. Stiamo per andare a letto domani, giornata abbastanza tranquilla, penso. Comunque vedremo in serata, abbiamo fatto un giro per Amsterdam, abbiamo preso una pioggia mostruosa. Sono super contento di essere arrivato qua ad Amsterdam, perché si inizia già a respirare un po' l'atmosfera, perché è una cosa che chiaramente a Bergamo c'era meno. Per cui in gamba. Adesso andiamo a letto, ci portiamo a casa a 8-9 ore di suono tranquille, e domani ci mangiamo l'ultima giornata prima della maratona. Buonanotte a tutti! Come ti senti? Emozioni? Ho ancora avuto un po' poco tempo per pensarsi, ti dico la verità, oggi è giornata pienissima. Sì, sì, però... no, tanto carico, tanto carico, tanto, tanto carico. Dai, vorrei essere te in questo momento, lo dico sinceramente, perché è sempre bello quando dopo un tot comunque, che stai lavorando qualcosa, arriva proprio quel momento, e dici cavolo, adesso sto vivendo l'esperienza che praticamente ho lavorato magari un mese, due mesi, tre mesi, e poi tu che stai prendendo aperto tanto, tanto tempo, e ci hai messo la gradovolta impegno, davvero ti invidi in questo momento, vorrei essere nelle tue scatole, sul mondo, nel senso della tua parola. Grande doc, grande doc. A parte di tutto questo sei anche tu, eh? Cioè, senza girarci intorno. Vabbè, vabbè, che cazzo, cioè... E allora, proprio per me, mi raccomando, fai un suo risultato, eh? Daglie, 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 ci si prova, ci si prova, domani vediamo, vediamo al 200% poi come va, come dovrà andare, andrà. Grazie doc, grazie, buona serata, ciao doc. Buona serata, ciao, buona serata. A questo punto, comunque, è fatto, ragazzi. Quello che doveva essere fatto è stato fatto, non si può più cambiare nulla. Quello che dovevamo mangiare l'abbiamo mangiato, gli allenamenti che dovevamo fare l'abbiamo fatti, la forma in cui potevamo arrivare è quella in cui siamo arrivati. Per cui non ci resta che mangiarci la tensione che adesso deve diventare benzina e non un freno, ed è questo il lavoro più importante che dovremo fare domani mattina e poi vedere come andrà. Ragazzi, grazie di cuore, come sempre, di tutto il supporto, davvero, è da ieri che rispondo ai vostri messaggi su Instagram, su Telegram, ovunque. Grazie, 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 perché è bello, davvero, sapere che non sto correndo solo per me, tanto, tanto bello, mi ringrazio. L'unica roba che posso fare è dare il 200% domani, un passo alla volta come sempre. Grazie. Grazie. Ragazzi, buongiorno. Sono le 7.24 in questo momento, stiamo per prendere il tram. Lo confesso subito, ho la testa che è ovunque, almeno che qui in questo momento, che non va per nulla bene, però vediamo, sono ancora un po'... devo ancora entrare un attimo nel mindset giusto, per cui non sono troppo motivato in questo momento. Deve essere onesti, giusto? Perché questa è la verità. Adesso vediamo, abbiamo ancora un'unità e mezza per allinearci come si deve. È difficile, la mattina della gara è difficile essere convinti al 1000%. Entrano in testa una marea di pensieri e quindi... vediamo. Scusate, guardatelo qua. Domenico di Rosalena. Numero uno. Numero uno. Ma vedete che il countdown inizia a farsi sentire, siamo a meno 30 minuti. Adesso sto usando il luck finale, basta Fissan da mettere tra le cosci, ragazzi. Questa può essere davvero una salvezza. Poi ragazzi, la seconda cosa da fare... Non perché fa sexy, ma perché sennò si irrita tutto. Tra le ultime cose, ragazzi, ovviamente vi porterò dietro lo zainetto e i gel. Sono quattro, ne prenderemo uno ogni 9 km. Per cui ogni tre quartiere o meno. L'idea è questa. Ci siamo! Ci siamo! Ragazzi, ci siamo! Ormai mancano 15 minuti. Penso che questo sia più o meno l'ultimo momento in cui posso fare una ripresa con calma, pallata. Stiamo per partire. Dico la verità, la forma non è al torto, purtroppo. Ma la carica è arrivata. La carica c'è. Perché adesso si tratta solo di partire. Stiamo iniziando pian piano più di ginale, si sta pian piano alzando il vento. Però sarà questo il bello? Sennò è troppo semplice. Dai, ragazzi. Cinque mesi per arrivare qua. Non esiste di non dare il 200%. Un passo alla volta. Andiamo a prendercela. La prima parte della gara, ragazzi, è stata magica. Sono trovato in un batter d'occhio a superare l'arco che segna i 21 chilometri e uno che segna la mezza maratona. Ho guardato l'orologio nel momento in cui oltrepassavo proprio l'arco e segnava un'ora e 45. Questo però, questo vuole dire due cose. La prima, stiamo andando velocissimo. All'è, 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 all'è. Così. Al turbo, al turbo. Non ho mai corso una mezza maratona così velocemente ed era decisamente più veloce del passo che ero dovuto ottenere. E questa cosa, seconda cosa, era potenzialmente un grosso, grosso problema. Se c'è una cosa che in maratona bisogna evitare è proprio quello di andare più veloce del dovuto. Se qualcosa sarebbe dovuto andare storto, sarebbe successo di lì a poco. Chilometro 23, ragazzi. Eravamo a lungo l'argine di un fiume e a un certo punto mi accorgo che c'era una barca con la musica. Decido di alzare lo sguardo verso questo signore e salutarlo. È bastato un attimo di disattenzione. Un attimo in cui ho alzato la testa e ho guardato questo signore e non chiedetemi come, mi sono trovato in mezzo secondo per terra. Storta dalla caviglia sinistra che tuttora è ancora un po' gonfia. Mi ritrovo per terra e in mezzo secondo, perché in mezzo secondo mi rialzo, in mezzo secondo nella mia testa passano migliaia di pensieri. Mi rialzo subito, riparto a correre, la caviglia fa malissimo, brucia tanto. La gente attorno mi chiede se sto bene, perché comunque ero caduto davanti a loro. Mi rimetto a correre e per 200 metri la caviglia fa malissimo. Decido in quel momento che non sarà una storta a fermarmi. Decido in quel momento che io ci voglio correre sopra. E dopo 500 metri la caviglia non la sento più. Non solo riparto a correre, ma riparto ancora più forte di prima. Corri! Più veloce! Corri! Corri! In quel momento nella mia testa cambia davvero tutto ragazzi. Neanche chieder per terra, neanche una storta è riuscita a fermarmi. Realizzo una cosa, avevo corso la mezza maratone in un'ora e 45. Se fossi riuscito a tenere questo ritmo per tutta la seconda parte, o anche un filo meno, io avrei battuto l'obiettivo che ci eravamo dati. Ragazzi, questa preparazione è partita con l'obiettivo di scendere sotto le 3.40. A fine preparazione con Simone abbiamo deciso di provare 3 ore e 35. Allerandomi solo 5 mesi sarei dovuto scendere di 26 minuti sotto il mio record, che l'ha già tantissimo. Ma in quel momento ragazzi, nella mia testa scompare tutto. In quel momento decido che avrei chiuso la maratona sotto le 3 ore e 30 e quindi accedero. Si uomo, si uomo, un passo alla volta. Non mollarmi adesso uomo. Ale, grese, ni, na, le. Siamo sempre insieme a te. Ovunque, dai, non ti lasceremo mai. Corri grese, l'imperi, magici ultra. Eee, grese, ni, na, le. Come on, man. Yeee, yeee. È un continuo superamento. That's too easy, man. Un passo alla volta. Dai, Domè, dai, Domè. 3 chilometri, 3 chilometri. Dai che li buchi, dai che li buchi, dai che li buchi, dai che li buchi, uomo. Vai, 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 spingi, spingi, spingi che li hai, spingi che li hai. Kilometro 40 ragazzi. La gara finora è andata da Dio. Abbiamo preso la grandine, abbiamo preso un temporale, sono fradicio. Ho le scarpe inzuppate, ho i calzini inzuppati, ma nonostante questo negli ultimi chilometri ho addirittura accelerato. Ragazzi, al chilometro 40 succede quello che pensavo che non sarebbe successo. All'improvviso il motore si spegne. All'improvviso le gambe non vogliono più andare, diventano pesantissime e tutta l'energia che fino al momento prima utilizzavo anche per ride, per scherzare, mentre correvo scompare. So che la chiuderò, perché manca pochissimo, anche a due chilometri, ma non con l'obiettivo che ormai nella mia testa era cementificato. In quel momento decido quindi di guardarmi intorno. Vedo Federico, il mio miglior amico che mi sta seguendo in bici, che continua a spronarmi. Vedo Luigi, mio fratello, che mi sta seguendo in bici, che continua a spronarmi. Vedo il tifo. Ragazzi, è stata la maratona con il tifo più bello che si potesse immaginare. Stacco la testa. Capisco che l'unica cosa che posso fare è staccare la testa. Stacco completamente i pensieri. E dopo i dieci minuti, scusate, i più lunghi della mia vita, davvero, i dieci minuti più lunghi della mia vita, arrivo al traguardo. Domenico, non hai corso una maratona. Hai fatto un capolavoro. Penso che tu debba essere consapevole. Non so cosa dire, ragazzi. Mi sono già commosso dentro, perché mi penso che non mi dico come vorrò adesso. Però che figata. Che figata. Adesso lasciatemi riprendere, che sono comunque cotto, cotto, cotto. E poi vi racconto com'è andata a finire. Che bello. Tagli oltreguardo, ragazzi. In tre ore e 28 minuti. Sono abbastanza sensibile. Si nota? Penso che si noti. Ragazzi, questa maratona mi ha insegnato che volere è potere. Dal primo momento io ho sognato le tre ore e mezza. Dal primo momento mi sono detto, domenica è impossibile. Cioè, migliorare di 31 minuti in 5 mesi è impossibile. Ho tirato dritto, ho dato tutto a me stesso in ogni singolo allenamento. E ci siamo portati a casa un capolavoro. Ragazzi, grazie di cuore a tutti. Questo è solo il primo capitolo. Presto vi dirò qual è il prossimo. Stiamo costruendo qualcosa di grande, ragazzi. Stiamo costruendo qualcosa di grande. Grazie a tutti. Grazie per ogni singolo messaggio che mi è arrivato prima della gara. In questi mesi, tutto, tutto, tutto. Perché è stata tutta benzina che poi ho utilizzato. Fino all'ultima goccia. Atleti. Un passo alla volta. E ora testa al prossimo capitolo. Un passo alla prossimo capitolo.